Nel 53, a Lugano il campionissimo, 5 anni dopo, Ercole Baldini restituire all'Italia una maglia magnifica. Cipollini davanti, cipollini, 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 ed è nostro, è nostro il mondiale! Azione mondiale. Solo appoggiare, Iago, proviamo col muro, resta in campo cubano, ballone non cade, lottiamo ancora a rete, Lucchetta, Paolo, Berardi, Berardi, campioni del mondo, sul tetto del mondo, è il grande momento, sul tetto del mondo, 16 a 14, 16 a 14. Grande Italia, grande Italia, è il momento della gioia, campioni del mondo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!